Ragazzi sotto nei commenti mi avete chiesto come faccio a fare video I video li faccio col computer Ok era pessima Ok basta Bene ragazzi il mio nome è Raffa e oggi siamo qui con un nuovo video di Splash of Clans E eccoci qui con un nuovo episodio di Ma che tecniche sono Sono salito di livello, ho cambiato villaggio E il nostro recito di pini, abeti, come volete Sta avendo forma Ragazzi prima o poi lo completeremo insieme Poi lo distruggeremo insieme No scherzo Oggi usiamo Valkyrie e Maghi Sentite un po' come si chiama? Ghirie Come al solito fa schifo Ma noi la proviamo ragazzi Aspetto le truppe e ci vediamo dopo Ragazzi non so perchè non mi ha registrato l'audio Ma comunque avevo fatto l'attacco Avevo fatto 3 stelle Era epico Magari ve lo metto Ma a noi frega poco perchè ne faremo un altro Tra 3 ore Ok ragazzi rieccoci qui con tutte le truppe Le ho gemmate perchè veramente non ce la facevo più Allora andiamo subito a cercare qualche avversario da attaccare E speriamo di fare 3 stelle come prima Speriamo di trovare qualcuno abbandonato Così lo spacchiamo in due Anzi in 3 Ok ragazzi proviamo con questo non sarà difficile perchè come vedete ha gli artx Possiamo provarci Possiamo provarci Grazie a tutti i valchirie Meglio dei golem No scherzo i golem hanno molta più vita Però anche le valchirie non scherzano Ok attiviamo la regina e il re Tanto abbiamo vinto Almeno che non finisca il tempo Quella è sfiga E 100% ragazzi 3 stelle Un'altra volta Non abbiamo preso poco Buono buono Guardate tra l'altro quanto elisi abbiamo Sto cercando di arrivare a 7 milioni Così avvio i draghi al 4 Ok ragazzi Il video è finito Se vi è piaciuto lasciate un mi piace Un commento Seguitemi su facebook E su instagram E noi ci vediamo al prossimo giorno Con un prossimo video Ciao ragazzi